Mancano 20 giorni all'apertura della mostra Organismi, che sarà la prima mostra organizzata alla GAM sotto la direzione di Caroline Christophe Bakkerjeev. È una mostra che riserverà molte sorprese con una presenza di eccezione che mi dà lo spunto, l'occasione per, spero un po' incuriosirvi, e cioè la figura di Emile Gallet che rappresenta all'interno della mostra un po' una sorta di inizio del percorso, una figura sicuramente di grande interesse, una figura poliedrica, un'artista dai molti talenti che noi tutti conosciamo per le creazioni in vetro, ma che qui si rivelerà anche per alcuni mobili, però anche qui naturalmente saranno i vetri a restituire forse gli aspetti più visionari delle sue capacità creative. Organismi ed Emile Gallet. Emile Gallet è un uomo che per educazione, per formazione, ha la fortuna di crescere in una famiglia abbiente, che gli consente non solo di coltivare alcune passioni. La musica, ad esempio, studia ad un ottimo livello il piano, ma anche le lettere. È un profondo, è un ottimo scrittore, un profondo conoscitore della poesia del suo tempo. Non di meno a questa passione umanistica, viene legata a una passione scientifica. È un botanico, c'è proprio una unione tra interesse scientifico e artistico che ne fa una sorta di umanista dell'inizio del XIX secolo. Quest'uomo si presenta qui a Torino perché ebbe un grande sogno, che era quello di partecipare nel 1902 a quella che sarebbe stata una manifestazione straordinaria a Torino, e cioè la prima esposizione d'arte decorativa moderna che si stava allestendo al Parco del Valentino, e dove per la prima volta le arti decorative sarebbero state presentate da sole, anziché in quelle colossali esposizioni universali che fino a quel momento le ospitava confuse tra macchine industriali, merci, prodotti completamente privi di qualunque qualità. È chiaro che in quell'affollamento le arti decorative si perdevano. e attraverso lo sforzo a Torino di alcuni intellettuali che avevano proprio avuto, dopo l'esperienza della grande esposizione universale di Parigi del 1900, la cognizione che l'Italia non poteva essere così arretrata su quel fronte, visto i grandissimi esempi e le maestranze straordinarie, le maestranze artigiane che da noi erano state attive fino a quel momento. Occorreva però che l'Italia avesse in un qualche modo uno svecchiamento radicale, non più guardare i modelli classici ma aprirsi al nuovo. E che cos'era il nuovo? Era naturalmente il grande movimento Art Nouveau, Jugendstil, Secessionart, tutte le varie denominazioni che il grande movimento che noi denominiamo comunemente Liberty andava prendendo piedi, andava prendendo corpo. Per questo la proposta è, proprio dopo Parigi 1900, ospitiamo a Torino, nel 1901 si pensava, poi si capisce che è meglio puntare al 2, questa prima esposizione, per la prima volta le arti decorative saranno protagoniste. Emil Gallet dalla Francia, la sua école de Nancy, Emil Gallet ha 55 anni, è un uomo purtroppo già malato, morirà di leucemia nel 1904, ma lo stadio della malattia è ancora iniziale, ha sufficienti forze per dare alimento a questo sogno, portare a Torino la sua école, sotto la quale si raggruppavano tutte le imprese del nord della Francia, della provincia loreinese, e qui bisognerebbe poi aprire un capitolo, magari lo facciamo un'altra volta, dove le imprese d'arte, proprio l'importanza di una cultura legata alla provincia, soprattutto il modo particolare di intendere l'ispirazione alla natura, che era davvero un'osservazione da botanico, un'osservazione naturalistica in senso scientifico, che diventava quasi motivo strutturale del mobile, del vaso, per cui con una declinazione veramente molto singolare, che noi in mostra potremmo presentare attraverso alcuni vetri meravigliosi, andava assumendo. Tutto questo fino al 6 febbraio 1902, alcune lettere inedite conservate al Gati di Los Angeles, ci raccontano che lui scrive al critico suo, nel frattempo divenuto amico, Gabriel Mouret, che scriveva sulla prestigiosa rivista Vestudio, che era una delle riviste di punta del movimento, gli conferma che lui sarà a Torino con l'Ecole de Nancy. Sappiamo infatti che la preparazione ferveva, che il suo architetto, l'architetto all'interno delle colle, Milandrè, stava preparando, aveva già preparato i bozzetti per il portale, Gallè voleva un padiglione separato, quella era la condizione, non voleva essere annegato dentro la galleria della Francia. Da Torino si chiedeva che questi padiglioni fossero però a spese dei relativi stati, Gallè si stava adoperando per trovare i finanziamenti da parte dello Stato francese, della Municipalità di Nancy, di tutti quelli che potevano essere gli industriali d'arte, insomma le cose che si doveva naturalmente fare. Succede però che lo Stato francese decide che proprio a causa probabilmente del grande esborso per l'esposizione di Parigi del 1900, rende quel finanziamento quasi risibile. La stima della spesa era di 15.000 franchi, a malapena la Municipalità di Nancy alla fine ne trova 2.000. Era veramente, possiamo solo immaginare quella che deve essere stata la spasmodica ricerca di Danaro in quel momento, che lo porta il 24 marzo, dopo una serie di interventi sui giornali locali, la Rorraine in particolare, dove lui spiega quanto quella vetrina internazionale doveva essere il segno che le Col de Nancy diventava l'erede della grande tradizione nazionale della decorazione francese. Non erano i Bing, non erano i grandi commercianti Liberty, non erano loro, erano invece queste maestranze che portavano avanti un discorso di ricerca, di sperimentazione, che naturalmente aveva anche i suoi risvolti commerciali. È un industriale galleno, non dobbiamo immaginare un romantico, però aveva le sue maestranze che lavoravano con grande qualità. Ecco, perché magari un'altra conversazione potrebbe essere dedicata al fatto che Gallet non era materialmente un esecutore. Lui coordina, lui idea questi basi straordinari, ma poi sono i suoi collaboratori a portarli innanzitutto a disegnarli, partendo dal suo schizzo, a disegnarli facendoli diventare dei veri e propri modelli. E di lì poi, nel caso dei vetri, altre maestranze che materialmente prendono in mano l'esecuzione fino alla realizzazione. Ma lui è in grado di vedere e di capire da tecnico, perché studia la fabbricazione come un vetraio. Questa era proprio una competenza tecnica straordinaria che lui ha, così come ce l'ha sull'ebanisteria per i mobili, così come ce l'ha sulla ceramica, eccetera. E che è questo che gli permette appunto, un po', dice Caroline, come Boetti ai nostri giorni. Lui ha l'idea, è un artista concettuale per certi aspetti. Allora, questi soldi non vengono trovati. Il 24 marzo lui scrive a Mouret una lettera veramente dolente in cui gli dice quanto sia ferito dal nauseato, dall'idea che non siano stati raccolti sufficienti fondi e che nello stesso tempo lui deve tutelare la dignità delle Col de Nancy. Non potrà, quindi decide lui stesso di rinunciare a prendere parte. Alcuni dei suoi collaboratori, un paio, decidono invece comunque di essere a Torino, ma il nome Gallè non ci sarà, non ci sarà il nome Col de Nancy e questi pochi che partecipano verranno, come Gallè aveva previsto, del tutto annegati dentro quel padiglione. La mostra Organismi di Torino è dunque la grande occasione per Gallè di riportare qualcosa di quello che lui avrebbe sicuramente voluto a Torino. E per noi la grande occasione a distanza di alcuni decenni di vedere finalmente per la prima volta le Col de Nancy a Torino. Grazie.